Colpa nostra, colpa mia prima di tutto, perché i presupposti di una partita del genere c'erano tutti. Non sono stato in grado io di metterli sul... volevo una partita della stessa intensità di Lodi, della stessa cattiveria di Lodi e ho provato... mi interessava quello, mettere in campo quello, quella grinta, quella determinazione, quella andare a giocare che abbiamo avuto a Lodi su un campo non perfetto, mi interessava quello. Invece non sono riuscito io a passare questo messaggio ai ragazzi. E quindi eravamo... sì, eravamo con le nostre idee e con tutto, ma mancava quello. Mancava andare più forte di loro, mancava vincere i contrasti. Tante volte ho visto i nostri che rimbalzavano e loro che riuscivano ad andare sul pallone per primi. Poi la partita sapevamo che sarebbe stata questa. Il Ponte ha sempre giocato così in tutte le partite che ho visto fare, sia in casa che fuori. Aspetta, ha elementi contropiedisti, ha una boa davanti che li fa uscire. Quindi sapevamo che avremmo avuto difficoltà a scardinare, andare dentro perché si rintanavano negli ultimi 30 metri. Però poi quando logicamente vanno in vantaggio, quello si accentua ancora di più. Potevamo creare qualcosa di meglio, soprattutto se avevamo un'intensità diversa. È possibile che qualcuno abbia accusato un po' di stanchezza, però loro da domenica a questa parte hanno cambiato anche loro tre elementi dall'inizio. Poi magari li ha ruotati con più sostituzioni rispetto a me. Sì, però perlomeno il primo tempo. Dopo magari puoi avere un crollo nel secondo, ma l'atteggiamento all'inizio non può già essere così. Già dopo la partita col Fanfulla erano dispiaciuti per i due punti persi. Però molte volte la testa va, ma devi essere in grado anche se le gambe non vanno, di portare qualcosa di in più, del cuore, qualcos'altro. Per me mi sembra quest'anno, come all'inizio dell'anno quando siamo partiti e avevo delle ottime sensazioni, ogni partita, ogni domenica, il venerdì e il sabato hanno sempre rispecchiato molto, l'allenamento del venerdì e del sabato rispecchiano sempre molto quello che succede in partita. Quindi campanelli di allarme per quello che ti dicono che c'erano. Perché sia venerdì che sabato ho visto la squadra non allenarsi nel solito modo. Vediamolo come un incidente di percorso, la strada è ancora lunghissima, non siamo neanche a metà e quindi c'è ancora tempo per fare qualsiasi cosa. Pagati i giocatori che dovevamo fare un campionato tranquillo, diciamo così, e siamo lì davanti. Abbiamo visto quanto è bello essere lì davanti, però serve qualcosa di più. Ok, prendiamolo come un incidente di percorso e da martedì si ricomincia a macinare chilometri, lavoro, lavoro, perché solo così possiamo continuare. Questo ci ha portato ad essere quelli che siamo e lì continueremo lavorare. Grazie. Grazie. Grazie.